Un corpo senza vita è stato recuperato a Maccagno, si tratterebbe di Andrea Galimberti, l'escursionista comasco, travolto dalla furia delle acque nel maledetto weekend di maltempo. Buone notizie dalle migliaia di test effettuati in questi giorni, da TS su insegnanti e personale scolastico, non si registra alcun tampone positivo, nota dolente, l'adesione, più di mille hanno prenotato l'esame ma non si sono presentati. 1.630 aspiranti medici e dentisti hanno partecipato al test dell'Università dell'Insubera nelle fiere di Erbe Buster Sizio, un compito complicato, reso ancor più delicato dalle norme anti-Covid, ma l'Ateneo giurisce, è andato tutto bene. Tra i negozi storici di Varese spicca Luigi Piccinelli, re del pesce da quasi 54 anni, nel suo racconto La città di ieri, tanti ricordi, l'effetto Covid, molte famiglie che hanno riscoperto la qualità della bottega. Nello sport il basket con la nuova puntata di due tiri liberi e le bocce con una partita che ha appassionato i presenti. Un saluto a voi tutti e ben trovati, come avete sentito nei titoli, dopo parecchi giorni di ricerca è stato trovato a Maccagno un corpo senza vita che parebbe appartenere ad Alessandro Galimberti, 38 anni, comasco, cercatore di funghi che proprio a Maccagno insieme a un amico nello scorso weekend si trovava per una escursione. È stato, come ricorderete, travolto da quella spaventosa ondata di maltempo che si è abbattuta sull'alto Varesotto e che appunto avrebbe scatenato la furia delle acque fino a trascinare via il corpo del povero uomo. Per tutti questi giorni, parliamo di quasi una settimana, decine di soccorritori, di vigili del fuoco, di volontari, di specialisti del nucleo speleo alpino fluviale hanno setacciato l'area di Maccagno e i corsi d'acqua lì presenti e appunto questa mattina un corpo senza vita è stato individuato, intorno alle 15 è stato recuperato e affidato naturalmente all'autorità giudiziaria per tutte le ricostruzioni e tutti i dettagli del caso. Le operazioni così si sono concluse con quella drammaticità che era lecito aspettarsi purtroppo. Adesso invece parliamo di un fatto che negli anni passati ha fatto discutere parecchio, sicuramente troppo, riguarda noi di Rete55 e oggi possiamo scrivere la parola fine. Siamo qui di fronte al Molina perché nel 2015 Rete55 aveva siglato con la fondazione Molina Onlus un prestito obbligazionario di 450 mila euro per l'apertura di un canale televisivo nazionale. Ora l'emittente televisiva comunica che dopo aver onorato puntualmente gli interessi alle scadenze contrattuali il prestito obbligazionario è stato restituito per intero con una quota di 200 mila euro nel 2019 e di 250 mila euro nel 2020 con l'ultimo versamento effettuato lo scorso 18 agosto quindi in anticipo rispetto alla scadenza naturale del 2 novembre. Adesso in data 2 settembre 2020 la fondazione Molina Onlus ha rilasciato dichiarazione di restituzione anticipata a chiusura del contratto. Buone notizie ma anche qualche nota dolente sul fronte dei test sierologici e dei tamponi se ne stanno svolgendo a migliaia in questi giorni su obiettivi molto mirati il personale delle scuole che il 14 settembre tornerà in servizio e poi coloro che rientrano dalle ferie trascorse nei paesi considerati a rischio sapete Spagna, Croazia, Malta e Grecia a coordinare tutti questi lavori è ATS Insuber che sarà al centro del nostro speciale in onda sabato nell'orario dei TG con tutti i dati più aggiornati, le linee guida per le scuole e un'intervista al direttore generale. Ve ne anticipiamo giusto un passaggio in cui si pone in risalto appunto un numero confortante ma anche la nota dolente riguardante le adesioni perché sono più di mille gli interlocutori che hanno prenotato il test ma non si sono fatti vivi. I numeri appaiono incoraggianti perché alle migliaia di test sierologici eseguiti nei giorni scorsi da ATS Insuber sul personale scolastico non è seguito alcun tampone positivo. Meno confortante il dato sulla adesione, più di mille gli interlocutori che hanno prenotato l'esame ma che poi non si sono presentati. Da qui l'appello della direzione generale a farsi avanti anche perché, aggiungiamo noi, confermare la propria presenza e poi non andare all'appuntamento non dà certo il buon esempio. Il numero di positivi al test rapido rispecchia un po' anche l'andamento che c'è stato dell'epidemia nelle due province e un dato direi positivo allo stato attuale nei test di inodore effettuati non abbiamo rilevato nessun tampone positivo. Quindi nessun insegnante, nessun operatore scolastico ancorché con test sierologico positivo, ha rilevato di essere infettivo, quindi tamponi tutti negativi. Questo direi che è un dato positivo, che fa ben sperare per la ripresa dell'attività scolastica. E diciamo che quegli oltre mille che hanno confermato la propria prenotazione non si sono presentati, non sono un buon segno, se non altro dal punto di vista educativo. Noi confidiamo che ci sia un recupero magari di queste persone che magari per diverse ragioni si sono prenotate e poi non si sono presentate. C'è la possibilità ancora di potersi registrare e poter effettuare questi test. Io solleciterai la massima adesione anche perché ripeto un test che sostanzialmente non causa nessun disagio, è veloce e secondo me è molto utile per conoscere un po' la situazione generale. Per un resoconto puntuale e aggiornato sull'esito dei test e dei tamponi in esecuzione a Malpensa, non perdete lo speciale di Rete 55 in onda sabato 5 settembre nell'ora dei Tg. E a proposito di salute, si sono svolti questa mattina i test di accesso alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università dell'Insubria. 1630 i candidati che si sono presentati nelle due aule predisposte dall'Ateneo, cioè al Malpensa Fieri di Bustersizio e all'Ario Fieri di Erba. È andato tutto bene, dicono adesso i vertici dell'Università, consci di quanto fosse complicato questo momento così tanto partecipato, ma che naturalmente è stato rispettoso delle norme anti-Covid. Alla fine i candidati provenienti, più di 1600 erano da Varese, Como, Lecco, Monza-Brianza, 80 tra funzionari e docenti, c'erano anche il rettore Tagliabue, il preside della Scuola di Medicina Carcano, il direttore generale dell'Università Cavallotti. Ebbene, per i candidati che sono interessati a iscriversi all'Università dell'Insubria, i posti disponibili sono 150 per Medicina e soltanto 20 per Odontoiatria. A tutti loro il nostro in bocca al lupo. E adesso invece andiamo nella storia del commercio varesino, a tu per tu con Mr. Fish, colui che per eccellenza ha Varese e meta di famiglie e anche di ristoratori a caccia di buon pesce. Lui si chiama Luigi Piccinelli ed è sul pezzo da più di 50 anni. Entrare nell'unica pescheria rimasta a Varese è come sfogliare un libro di ricordi. Da ogni angolo spuntano foto in bianco e nero, custodite con affetto e precisione, perché è riflesso di tanti momenti da incorniciare. Le vetrine allestite in tutta Italia, vincitrici dei concorsi, i pesci da record pescati, esposti, venduti, issati sul banco da dieci braccia per quanto pesavano. E poi gli incontri prestigiosi, con i VIP di un tempo, ma anche con la città di quest'ultimo mezzo secolo, impressa con i suoi volti, i suoi cognomi, i suoi aneddoti, sulle colonne di Corso Matteotti e sulle piastrelle di questo negozio storico, che una volta si chiamava Zamberletti, ma che ormai da decenni è associato al nome del suo titolare, Luigi Piccinelli, simpatico, esperto, affabile, un uomo abituato a fare fatica e armato di una dolcezza congenita, legato a doppio filo a quella bottega in cui ha lavorato, sudato, pianto, riso, stretto amicizie, subito il freddo, dei geli d'inverni passati con le mani nel ghiaccio a prendersi cura dei clienti e dei più prelibati inquilini di mare, fiume e naturalmente lago. Sono entrato qui nel 1967 come Garzone, ci racconta. Avevo 17 anni, tanto da imparare, un capo e molti concorrenti. Poi, il capo di me stesso, sono diventato io e oggi, in città, sono rimasto l'unico pesci vendolo. Fino a 75 come dipendente e poi mi sono messo in proprio. Da allora quanto è cambiato questo mestiere? Tantissimo, completamente, ma completamente in tutti i sensi. Una volta il pesce si mangiava meno, prima cosa. Si mangiava il pesce intero perché fare i filetti era un delitto, un orrore. Anche solo togliere la testa non si poteva. Adesso invece in prevalenza vanno i filetti, i tranci puliti, comodi, pronti da fare. Per una questione di tempo, per una questione di comodità, però è cambiato. La concorrenza della grande distribuzione? La concorrenza c'è. Noi per evitare, abbiamo scelto il massimo della qualità. Per cui abbiamo puntato sul massimo. Tu sei anche fornitore di tanti ristoranti prestigiosi. In questa epoca Covid, quanto hai visto cambiare anche quel mondo? Purtroppo è cambiato parecchio perché loro sono quelli che hanno sofferto più di tutti, come i bar del resto. Hanno sofferto perché stando chiusi non si poteva lavorare. Noi abbiamo avuto un 40% in meno di fatturato con i ristoranti, che poi invece abbiamo cambiato, girato, fatto dei servizi, consegnato a case e siamo riusciti a recuperare una buona parte con i privati. Possiamo dire infatti che un po' anche le persone durante il lockdown si sono abituate a tornare in bottega? Sì, senza dubbio. Sì, sì, noi abbiamo fatto il periodo che c'era la coda, cosa che succedeva solo a Natale. Senti, adesso dopo 54 anni sei pronto a cedere il testimone? Infatti c'è già qui mio figlio. È già qui. E speriamo che riesca ad andare avanti, insomma. Lui ci sta mettendo impegno, io cerco di spronarlo, fargli imparare, fargli capire il più possibile. Ha finito la scuola, è uscito dalla maturità benissimo e ha detto voglio provare a star con te per vedere riuscire ad andare avanti e che mi sono garantito la vecchiaia. Un'occasione per rilanciare la cultura, il teatro, che come sapete è stato fermo per diversi mesi, ma anche per ricordare il compianto Don Alberto. Ieri sera appuntamento a Gallarate. Sul palco, per ricordare Don Alberto. A Gallarate tornano le serate dal vivo. Eccoci, è il momento di ripartire. Il titolo dello spettacolo ideato e creato dal teatro Franco Parenti e che, promosso su tutto il territorio da Regione Lombardia, ha fatto tappa con i suoi camion nella città dei Due Galli. Si riparte finalmente questo spettacolo Eccoci, è un spettacolo offerto da Regione Lombardia. Ringraziamo l'assessore alla cultura regionale Stefano Bruno Galli per aver reso possibile questo spettacolo. Un spettacolo a cura del teatro Parenti di Milano, un teatro che ha collaborato spesso col teatro delle arti e quindi la serata sarà anche un ricordo inevitabile nei confronti di Don Alberto che recentemente ci ha lasciato. Una serata che voleva significare una ripartenza nel settembre gallaratese, un evento culturale per cui si riparte dalla cultura ed è stata l'occasione per ricordare Don Alberto che ha dato tantissimo alla città e ha collaborato per tanto tempo con il teatro Franco Parenti e quindi ci ha sembrato un omaggio proprio doveroso nei suoi confronti. Sul palco la musica dei VAT, giovani talentuosi musicisti vincitori del Festival di Castrocaro 2020, la comicità di Davide Calgaro e l'allegria dei due per due che hanno proposto la canzone fatta apposta ispirata ai racconti raccolti nelle piazze, nei bar e nelle strade dei vari paesi toccati con il tour. A Gallarate, dicono gli artisti, è stato inevitabile parlare di Don Alberto. Sarà uno spettacolo diviso in tre parti, ci saranno all'inizio i due per due che faranno una canzone fatta apposta che fanno tutte le sere dedicata alla città o al paese in cui stiamo suonando, poi ci siamo noi che suoniamo, siamo un gruppo, siamo i VAT, tra l'altro apro una piccola parentesi abbiamo vinto il Festival di Castrocaro di quest'anno e poi ci sarà Davide Calgaro a fare tutta la parte comica. Per ogni tappa del tour dei camions scriviamo una canzone fatta apposta, andando un po' a indagare la storia locale, le tradizioni, ma anche facendo delle piccole interviste in giro. Quest'oggi è dedicata naturalmente a Don Alberto che era un'istituzione qui. A rendere possibile la serata anche il lavoro di Polizia Locale, City Angels, Proloco e di Paolo Martinelli, manager del distretto del commercio. E come vedete da queste immagini si sono ultimati nelle scorse ore i lavori di ripulitura dello scavo archeologico dell'isolino Virginia, un'opera inizialmente prevista per il mese di marzo, poi rinviata a causa della pandemia, che ha riportato alla luce gli strati di interesse per le attività di indagine e di ricerca. L'area è oggetto di rilievo e georeferenziazione ed è protetta da una copertura. Nelle prossime settimane saranno valutati i futuri interventi. Sul fronte del nostro settimanale dedicato al fumetto vi diamo notizia di una biblioteca, di libero accesso e di consultazione gratuita che è specializzata appunto sui comics, i fumetti. Siamo in un posto molto particolare, non ve l'abbiamo svelato, vi abbiamo accennato qualcosa nelle scorse puntate, però questa sera... Andiamo un po', diamo degli indizi. Siamo su un soppalco abbastanza ampio per farci stare noi. Ecco, intanto. Già, però questo posto che cos'è? Che cos'è? Questa è la biblioteca di Crazy Comics and Games. È un nostro piccolo spazio dove noi, noi di Crazy Comics e alcuni amici, abbiamo creato una piccola biblioteca di manga, comics e libri che possono essere letti gratuitamente qui, in questo spazio, seduti comodamente su questi puff. Questi puff che sono comodissimi, tra l'altro. Quindi si può fare ore e ore a leggere. Con la luce giusta, abbiamo anche ghiotto eventualmente per gli amanti degli animali che vogliono fare due coccole al cane, insomma è tutto molto carino, sembra di stare in salotto. Quindi uno può venire qua, prendere un fumetto, leggerlo e poi lo rimette a posto. Esatto. Mi raccomando, rimetteteli a posto. Sì, questo è fondamentale. Sennò poi gli altri non li trovano. Ci sono tantissime serie, si può salire e leggere tutto quello che è a disposizione e basta. Guarda, io prima, mentre te lo aspettavo, ho letto una ballata del male salato di Hugo Pratt, molto maltese, detto che era disponibile. Sono disponibili, sono disponibili per voi. Insomma, un momento d'assenza, carino, qui siamo sollevati, quindi non sentiamo i rumori. Soprattutto un posto molto tranquillo. Lo trovate sul tetto del Crazy Comics. Benissimo, grazie mille per questa informazione preziosa. Sicuramente torneremo. E sul filo dell'arte andiamo a tu per tu con Carla Tocchetti, esponente del settore in quel di Varese, per una nuova iniziativa. A Varese, presso il Battistero di Velata, è in corso il ritiro, ciò che allontana vicina. Un progetto di arte partecipata a cura di Marilisa Leone di Crema e Giovanni Ronzone di Lissone, con Carla Tocchetti in qualità di art communicator della mostra. Costruita ai tempi del lockdown, vede il contributo di 65 artisti italiani e internazionali che hanno lavorato con gli scarsi materiali che in quel momento si trovavano a portata di mano. La solitudine indotta dal Covid ha portato con sé anche i doni del silenzio e delle riflessioni, che per alcuni artisti si sono trasformati in una straordinaria fucina creativa. Una riflessione artistica sul momento, sul periodo del lockdown. 65 artisti che provengono da tutta Italia e anche da parte del mondo partecipano a questa riflessione utilizzando l'immagine e la parola. La mia idea è stata quella di lanciare un invito agli artisti che non si sarebbero incontrati per un lungo periodo affinché i loro mondi venissero espressi e potessero creare un futuro orizzonte. Questo invito è stato raccolto anche dall'amico architetto Giovanni Ronzoni e insieme abbiamo costituito questo lavoro che ha dato origine ad un grande progetto. Ho aderito immediatamente a questo suo invito, ma non solo, ho invitato tutta una serie di mie amicizie in tutto il territorio italiano che si occupa di arte e anche di scrittura, quindi con l'invito di produrre due cartoni rigidi di una dimensione di 30x30 dove il primo doveva essere il gesto artistico e il secondo il gesto di pensiero. Il modulo minimo richiesto dai curatori consisteva in due opere su carta in formato 30x30 in cui si coniugasse parole e immagine da eseguire in tecnica a piacere. Ne sono uscita opere anche in forma tridimensionale di pittura, fotografia, collage, pensieri e aforismi. A tutti una buona serata. Le previsioni per domani venerdì. Ben soleggiato e più caldo. Le temperature massime tra i 27 gradi delle prealpi e fino a 30 in pianura padana. Zero termico sulle Alpi in rialzo a 4.200 metri. Una bellissima giornata di sole e caldo anche sabato. Domenica sempre soleggiato e caldo ma qualche nuvole in più lungo le Alpi dove in serata potrebbe esserci qualche isolato rovescio temporale. Per la parte di attualità è tutto. Dopo la sigla lo sport parliamo di basket e di bocce. Grazie. Grazie.